ciao ragazze ciao a tutte e a tutti il nuovo video vlog no pero che chiediccio come state oggi io abbastanza bene sì innanzitutto mi vedete struccata perché come sapete come saprete voi in questo giorno c'è molto 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 caldo e non mi andava a me di truccarmi per niente comunque appena farò la ceretta tutto il resto corpo e viso cioè la faccina e il corpicino mio potrò di nuovo truccarmi truccarmi sì e niente dunque stavo pensando di andare in giro ma non mi va perché c'è troppo caldo io non voglio oddio questa cosa cos'è assidioso vabbè niente e quindi non mi dicevo non mi va di andare in giro proprio perché in questo caldo si muore quindi no però magari domani farò un'eccezione e andiamo in giro insieme vi porto con me magari la spesa non lo so vediamo le varie uscite per i negozi o no oggi cos'è oggi è no oggi è sabato aspettate che mi controllo che non sia mai decisamente oggi è sabato oggi dovevo uscire oggi ma me l'ha fatto che stavo pulendo casa di si fai intanto tutte cose tutte cose parliamo e mangiamo insomma stavo pulendo la mia casa la mia camera tutto non è solo quello me la sono fatta proprio riposare nel mio belletto ci ho avuto comodo e non ho avuto voglia di stare di tanto di stare lì tanto a nulla a pulire troppo casa è vero ho voluto dormire un po' di più mi piace dormire così ho fatto poi mi sono ripresa ho fatto un altro caffè mi sono messo a pulire casa nel frattempo ci è passata quelle le ore sono passate perché mi sono anche riposata mi sono un po come si dice quindi allora da noi allenata ovvero sì ho preso una pausa poi ho ripreso a fare pulizie e poi ancora vabbè sono andata a fare la commissione a prendere un telefono scusate un telefono che non si può più aggiustare perché non ve lo posso neanche far vedere perché mi ha dimenticato di fare la foto ma non importa è un huawei pips non sei non l'ho fatto aggiustare anzi l'ho portato in assistenza però in assistenza non si poteva aggiustare quindi niente ho preso 15 euro per niente non ho preso quindi se devo prendere altri cellulari più là sarà un periodo lontanissimo sarà un altro anno sarà chissà quando ma non importa al momento mi tengo questo che ho con cui sto registrando e il resto si vedrà un altro momento comunque questa non era tanto importante e la cosa di poter di dovere ci sarebbe forse i telefonini quindi mi tengo il mio xiaomi mi 11 lite da 128 gb che va bene lo stesso tra l'altro ho attaccato anche la custodia ho inserito la custodia la cover quella che è quella che se mi cade per terra metto le corna di non incrocio ridenze di no perché non voglio che mi cade per terra perché se mi cade per terra non me ne compro più i telefoni ed è finita lì quindi devo stare attenta ops aspettate vi dicevo devo stare attenta che non mi cade per terra anzi cercherò quando ho tempo al ricovero se no mi devo quella che ho perché non è che vi che sono che vivono e loro quindi mi devo anche arrangiocchiare con quello che ovviamente comunque niente cosa vera quanto di bello nulla che oggi ho mangiato piuttosto bene ho mangiato un bel riso insalata poi ho preso anche un bel caffiuccio mi ho guardato forum con barbara pallonbelli e niente questo è tutto sono adesso ho mollato un po con il mare infatti ho un dolore allucinante l'angilante alla schiena ma vabbè e niente ho cambiato qua tutto il posto della mia sticker e dei miei pennelli li ho messi dietro di voi c'è dietro il dispositivo tra le quale sto registrando e siete appunto appoggiati se state muovendovi perché vi sto muovendo io perché siete appoggiati sopra una scatolina vi metto tutti i miei trucchi e il mascara vi è scorrendo non sto lì a dire che cosa si ragazzi è lì mi sto dicendo in teoria che sto che ho sistemato un po' tutte le mie cosucce i trucchi e tutto quello che dovevo dirvi tutto quello scusate tutto quello che dovevo che mi dava fastidio com'era l'ho risistemato in un'altra maniera e niente nulla ragazzi questo era tutto e niente era un mini video vlog ci sentiamo alla prossima ciao ah un'altra cosa volevo dirvi se vi va seguitemi su instagram mi chiamo youtuber melania trattino passo 8 casomai vi scrivo il nome il mio il mio non il link il nickname del mio profilo instagram per chi vuole seguire ok ciao ah mi raccomando eh su qua su questo video ciao a presto